Vogliamo sostenere questo tipo di iniziativa, sviluppare la mobilità elettrica, sicuramente dobbiamo dotare il territorio di una rete diffusa di quelli che sono i punti di ricarica. Quindi Estra ha deciso di puntare su una realizzazione il più diffusa possibile delle colonnine proprio per dare una risposta a chi possiede una macchina elettrica e a chi la possiederà nei prossimi anni. Nuovo tassello del mosaico di colonnine di ricarica per auto elettriche che Estra sta disegnando in Toscana e nelle Marche. È stata infatti presentata la nuova struttura di talla in piazza 4 Novembre. Una stazione di ricarica per contribuire alla modernizzazione del nostro territorio nel segno della mobilità sostenibile. È un obiettivo che vuole centrare il nostro gruppo per contribuire anche alla cura dell'ambiente e a una diversa mobilità che in questo caso incrocia anche un paesaggio, un territorio bellissimo. Rappresenta una infrastruttura in più che mettiamo a disposizione della comunità di talla. Ci sono anche qui delle automobili che hanno bisogno della ricarica. Già da tempo i cittadini nella riqualificazione di questa piazza era prevista una colonnina di ricarica. La richiesta c'era e quindi ringraziamo Estra e Estra Energie per aver messo a disposizione della comunità questa infrastruttura. La postazione fornisce energia elettrica a 22 kWh completamente proveniente da fonti rinnovabili e su cui l'azienda garantisce un servizio di segnalazione, guasti e assistenza attivo 24 ore su 24. È per adesso gratuita per almeno due mesi. È sufficiente inquadrare il QR code con un cellulare, si scarica un'app generalista sulle stazioni di ricarica e si accede gratuitamente per i prossimi due mesi.